Dove diavolo siete? Ho buone notizie. Ogni mese su Infinity, nuovi film e nuove serie alimentano la tua passione. A maggio, insieme a migliaia di altri titoli, arrivano. Sono il dottor Becks. Avrei un paio di domande da farle. Come sarebbe? Tu chi sei? Un umano genomizzato. Piacere di conoscerti. Chi sei tu? La secretaria del Cavalier Lutovici. Non capisco perché ride, signore. Ciao. De nuovo in pista, baby! Infinity Maggio. Nuove emozioni senza fine. Infinity Maggio. Nuove es. zich Grazie a tutti